Ciao a tutti, durante un progetto molto innovativo sui chatbot mi hanno chiesto di condividere che tecnica utilizzo per aumentare la mia produttività. Io suggerisco quella del pomodoro, che già di per sé fa sorridere, pomodoro, concentrato, mi raccomando, con le battute. Invece è una strategia per la gestione del tempo, molto semplice nella sua applicazione, ma estremamente efficace. Considerato che la nostra attenzione è limitata, questa tecnica consiste nell'utilizzare un timer settato a 25 minuti per ogni task, seguito da 5 minuti di riposo. Ciò consente di non avere nessuna distrazione durante l'esecuzione dei task e dopo 4 pomodori puoi prenderti un'ora di pausa per gestire tutte le altre attività. Provare per credere, io lo trovo veramente molto performante, fatemi sapere cosa ne pensate. Concentrazione, concentrati in azione.